buongiorno a tutti allora proseguiamo con le schedine bollettine del digione il loro esito per quanto riguarda la scorso weekend con il campionato italiano in cui ahimè ho fatto veramente pena pena che schifo comunque bando alle ciance ciancio alle bande andiamo a vedere com'è andata è una tristezza meno male che mi sono salvato in corner con gli altri due campionati che abbiamo fatto erbotto perché lì veramente abbiamo fatto non il bottone bottone inteso botto gigante non il bottone nel senso il bottone della camicia ma il botto proprio quello grosso perché il botto grosso l'avevo fatto a inizio campionato col campionato inglese l'ho fatto un tempo fa che avevo preso un'altra cosa da tanto però un bel bottino è venuto fuori più di 200 euro tra i due campionati è 60 in uno e 180 nell'altro grande libidine anzi 66 66 in uno e 185 nell'altro tanta roba però qua il campionato italiano andiamo a vedere allora schedina 1 6 su 10 e vabbè non poteva dire 6 su 10 appena sufficiente andiamo a vedere cosa ho sbagliato allora ho sbagliato genoa spezia perché mi sono arrischiato l'x e invece finito 1 poi dopo il parma che vabbè mi perde col crotone ma dovevo immaginarmelo perché ormai sono in caduta libera anche se è stata una partita pirotecnica eccetera eccetera ne ho parlato 4 a 3 si torna a segnare col crotone si torna a segnare e poi ho sbagliato signori miei benevento udinese perché il benevento è riuscito a perdere anche con udinese 4 a 2 e basta ah no e poi fiorentina juve perché ho messo il 2 invece la fiorentina ha pareggiato 1 a 1 era anche passata pure in vantaggio per prima e poi è stata raggiunta quasi subito inizio secondo tempo da morataus che si è inventato il golasaus e quindi 4 errori ma siccome al peggio non c'è mai fine scusate ne azzeccate solo 4 nella schedina successiva e quindi vi dico solo quelle che ho preso ho preso genoa spezia no non ho preso genoa spezia allora ho preso parma crotone gol vabbè ma quello era abbastanza scontato anche se l'ultima era finita crotone sandoria 0 a 1 però stavolta hanno fatto 7 gol poi ho sbagliato inter verona ahimè anzi prima ho sbagliato sassuolo sandoria ancora la sandoria che perde solo 1 a 0 questa sandoria che o segna un gol o ne prende uno non c'è gusto vedrete che la prossima sarà una partita da over perché 1 a 0 0 1 la prossima fanno 2 a 1 3 a 2 eccetera 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 con la roma tra l'altro sandoria roma ci sarà da divertirsi poi ho sbagliato ahimè no poi scusa sto dicendo mi sto incasinando allora diciamo quelle che ho preso ho preso parma crotone ho preso benevento udinese che ho messo l'over 1 e mezzo ho preso fiorentina juventus che avevo messo l'over 1 e mezzo e ho preso il gol di cagliari roma poi per il resto tutte le altre le ho sbagliate ecco e ma perché sono inviperito inviperito perché mi ero illibidinito col video precedente col botto libidinoso e invece è andata come è andata andiamo a vedere invece le bollette ma cioè non mi faccio troppe illusioni infatti bolletta delle fisse prese 2 su 4 sbagliato parma crotone e fiorentina juve morti gol casa ospite 2 su 4 non vi sto a dire quali perché c'è è un pianto doppia chance doppia chance parma crotone 1 is sbagliata 1 is più over preso l'over sbagliato l'1 is fiorentina juve s2 più over presa atalanta bologna 1 is più over preso torino napoli s2 più over preso mi consolo che 3 su 4 le ho preso sbagliato ahimè parma crotone perché ho messo l'1 x anziché l'is 2 però tutti gli over c'erano tutti poi gol casa gol ospite preso gol ospite del crotone preso il gol casa della fiorentina poi però non ho preso né il gol casa del torino col napoli nel gol ospite del bologna perché 0 2 5 0 quindi è inutile che andiamo sul gol più over quindi devo chiedere venia a tutti perché è giusto quando si sbaglia si chiede venia andiamo a vedere un attimino come sono andati i marcatori vabbè partiamo da parma crotone parma crotone ho azzeccato simi ma ma simi ormai lo metti lo metti dove lo metti sta lui segna sempre 19 gol in campionato tanta roba adesso lo vogliono tutti però ragazzi miei io quando sento prendiamo simi come dice lukaku simi è un altro ricardi magari caratterialmente non c'è il carattere di cardi ma non è colpa di cardi ma della moglie che l'ha montato come come la panna massimi mi sembra molto un giocatore alla pippo in zaghi alla ai cardi un giocatore d'area di rigore non un giocatore che ti fa salire la squadra eccetera perché anche ieri gol che ha fatto uno su rigore e l'altro da un passaggio col difensore che lascia sfilare la palla al portiere anche lui è lì a un metro e la spinge dentro è un giocatore che se una squadra ha le due ali che giocano per lui va benissimo ma se deve essere lui a giocare per la squadra non lo so se va tanto bene proseguiamo con sassuolo sandoria dove ho preso berardi vabbè era segnato solo lui quindi ho preso berardi la libidine è stata in benevento udinese che sono andato a prendere la padula e ci sta ma braff ho preso braff ho preso braff ho preso braff che tra l'altro non partiva neanche già e me l'ha messo per il titolare poi probabilmente è partito dopo però l'ho preso e godo 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 fiorentina juve ho preso vlaovic perché ho messo di bala ronaldo perché pensavo giocasse di bala e non di bala ronaldo in attacco e non morata e quindi ho preso solo vlaovic inter verona non ne ho preso manco uno ma d'altronde immaginarmi che entra d'armiana e segna e ci ne vuole ci vuole la lampada di aladino ala da aladino da adino adino scendi cagliari roma cagliari roma ho azzeccato pao azzeccato gioco pedro e basta perché poi ho messo vere tu e mkhitaryan ma ahimè non sono andati come si sperava proseguiamo con le altre partite ah mi ero dimenticato genoa spezia è vero che dovevo metterla come comunque genoa spezia non ho preso ho preso scamacca ho preso scamacca che ha segnato il gol che segno anch'io spinge il portiere te la lascia lì tu la metti dentro poi per quanto riguarda atalanta bologna muriel e zapata ha presi tutti e due perché va beh gli avevo detto muriel e zapata che li metto sempre assieme nel bologna non ha segnato nessuno quindi nulla e per quanto riguarda torino napoli ho azzeccato osimen concludiamo con lazio milan che ho preso ciruzzo mio che torna sta tornando al gol sta tornando da segnare tutte le domeniche ciruzzo è attenzione tenetene conto anche per la prossima partita perché ciruzzo sta tornando a segnare purtroppo correa non l'ho preso detto questo ragazzoli come sempre qualcosa prendo qualcosa non prendo però in ogni partita qualcuno lo prendo sempre c'è sempre la partita in cui non prendo nessuno ma non è che ripeto non ho la sfera magica non ho la delorean per sapere vado avanti mi faccio dare l'almanacco del calcio dal 2000 del 2050 così ci sono tutte le partite di tutti i campionati e sono tutti i risultati e mi diverto ragazzoli ci vediamo alla prossima che andrò a parlarvi del campionato inglese vediamo se è andato meglio o peggio del campionato italiano io ho già paura ciao